Solo e soltanto i significati nascosti sono in grado di trasformare gli inarrivabili astratti della bellezza. Che è una frase ovviamente piena di significato, che non è piena di significato, non significa assolutamente niente, ne è completamente priva, sono soltanto parole messe in un ordine. È grammaticalmente corretto, che non significa niente, ma sembra che abbia un profondo significato per un sacco di persone, apparentemente perlomeno dando un po' di credito a un esperimento, slash test, slash studio scientifico. Vi lascio ovviamente i risultati in descrizione, fatto dall'Università di Waterloo in Canada. A seguito di questa ricerca è arrivata alla realizzazione che le persone pseudoprofonde, così vengono definite, e attratte dalle stronzate bullshit, viene ripetuto più volte nel testo, che sembrano importanti e profonde e intelligenti, sono in realtà meno intelligenti delle persone che invece riescono ad andare oltre i paroloni profondi, che normalmente vengono attribuiti anche a delle sorte di guru o personaggi storici, politici, non importa che questi personaggi effettivamente esistano, l'importante è prendere un'immagine e schiaffarci sopra una frase e bla! Ecco qui Gandhi che si lamenta dell'Europa e del debito pubblico. Lo so che tutti voi vi rendete conto che questa frase è assolutamente assurda attribuita a Gandhi, però effettivamente l'immagine un po' fa sembrare che la frase l'abbia detta lui. Perché internet ci sta abitando a questo tipo di cose, non solo a frasi che non c'entrano niente con i personaggi raffigurati accanto e che vengono attribuite a questi personaggi, ma semplicemente a una marea di stronzate. Frasi sconnesse, credenze semimagiche, articoli che parlano di robe deliranti, ma che per alcuni non risultano deliranti proprio perché vengono inseriti in certi testi dei termini che sembrano scientifici, come fisica quantistica. Tu, se stai parlando di qualcosa, ci butti dentro un fisica quantistica e improvvisamente la conversazione da stronzata viene elevata a Mmm, interessante il tuo punto di vista, caro amico. Perché è ormai evidente che il metodo scientifico non può prescindere dalla limitata e assopita capacità sensoriale dell'uomo capitalista del ventunesimo secolo. L'ha detto lei, siamo davvero sicuri che questa frase non sia attribuibile a Marie Curie? E soprattutto, è questa Marie Curie o è questa Marie Curie? E ovviamente sono ingiusto, nemmeno io riconoscerei Marie Curie in una foto, non è una roba che vedi tutti i giorni, ci sta non saperlo. Il punto è che apparentemente le persone che sono più sensibili a questo tipo di frasi e la roba fantastica è che nel test c'era l'essere esposti a delle frasi generate con un generatore automatico, che peraltro è ancora online. Potete andare in descrizione e dargli un'occhiata. Sarebbero, sempre secondo lo studio, ovviamente anche più inclini a seguire teorie complottiste, a credere nel paranormale e a curarsi con pratiche di medicina alternativa, omeopatiche, robe di questo tipo. In questi giorni è anche emersa un'altra storia di quelle relative alle persone che fanno delle cose estreme con il proprio corpo. Abbiamo già parlato di donne che hanno intenzione di avere una figura molto simile a quella che si può vedere in certi disegni dei cartoni, che per quanto mi riguarda credo che siano dei disegni, quindi non delle vere rappresentazioni di quella che è la realtà, ma evidentemente alcune persone non la pensano così e quindi una roba che sembra essere sempre più popolare è quella di utilizzare dei corsetti strettissimi. Una donna di nome, Katie Jung, ha elevato il gioco a un livello ancora più alto, facendosi rimuovere ben sei costole, che le impedivano, ovviamente perché le ossa sono lì e non vanno da nessuna parte, di stringere ancora di più il corsetto, per avvicinarsi a questo ipotetico ideale di bellezza. In un video vi lascio tutto in descrizione, sembra abbastanza palese che l'operazione per segare via le ossa è abbastanza invasiva e non so se effettivamente un medico dovrebbe fare questo tipo di cosa, alcuni pensano di sì, alcuni pensano di no. Un'altra domanda che ipotizzo possa essere interessante è quanto ha senso una situazione nella quale questa donna, che apparentemente vive della sua immagine, vive dal suo profilo Instagram, si ponga come modello per altre persone? C'è un confine che non può essere superato? Qual è la differenza tra una persona che fa robe così estreme, che normalmente vengono considerate molto negative, e una che invece si sottopone a moltissimo sport, e scolpisce il proprio corpo, fino a farlo diventare incredibile, e invece viene percepita positivamente dalla società? Anche ma Watson è di nuovo finita nei giornali, ed è di nuovo causa di discussioni accesissime, per la questione he for she, il suo discorso che aveva tenuto alle Nazioni Unite, molto interessante in merito alla questione discriminazione sessuale, robe di questo tipo, perché ha ammesso che prima del discorso era stato apparentemente chiesto di non utilizzare la parola femminismo, e quindi vergogna e fiamme, bruciamo tutto, ogni cosa, nulla rimanga, perché ci vogliono impedire di usare la parola femminismo, è che dietro alla richiesta c'è effettivamente, secondo me, una ragione sensata, che è poi proprio il motivo della richiesta, la parola femminismo è diventata negativa, o sta perlomeno diventando negativa, a un'accezione divisiva, anche se molte persone, specie interne al movimento, mi sembra che fatichino ad accettare questa roba, il punto è che è sempre lo stesso, per quanto può essere nobile, è fantastica una causa, bastano un piccolo gruppo di persone che non hanno le idee chiare, e che sono tendenzialmente violente o estremiste, a distruggere praticamente quel movimento, che è esattamente lo stesso problema che stai cercando di combattere, visto al contrario, una parola che secondo me è molto più inclusiva, è antisessismo, mi piace molto di più, Pistorius è di nuovo nelle news, anche lui, e in questo caso, per molti, è una sorta di vittoria della giustizia, eccetera eccetera, io non mi aspettavo succedesse questo tipo di roba qui, dato che l'atleta che aveva ucciso la fidanzata, vi ricorderete, era stato inizialmente condannato per un omicidio colposo, che significa, wops, pensavo fosse un ladro, era in bagno, e io ho sparato a occhi chiusi, e wopsi wopsi, ho ucciso la mia ragazza, ma non pensavo fosse lei, non volevo uccidere nessuno, e la giuria aveva detto una roba che aveva fatto molto discutere, tipo, non siamo così sicuri che le cose siano andate in questo modo, ma non abbiamo le prove per dimostrare che siano andate in un altro modo, quindi, omicidio colposo e non volontario, ma la corte d'appello apparentemente non la pensa allo stesso modo, e ha condannato l'atleta a quelli che ipoteticamente potrebbero essere sino a 15 anni di carcere, adesso è ai domiciliari, decretando che l'atleta ha sparato alla ragazza per uccidere la ragazza, e pensando e sapendo che fosse la ragazza, e questo è interessante perché evidentemente o sono saltate fuori delle nuove prove, oppure tutto il discorso precedente in merito all'assenza di prove non vale più per qualche ragione. C'è anche un altro video che sta spopolando sul web e ho intenzione di spoilerarvelo, quindi se nel caso mutatemi sinché non vedete la scritta a fine spoiler, visto che questa roba qui sta facendo piangere tutti quanti, è la storia di un uomo che passa tutti i Natali da solo, perché i figli non si occupano di lui e allora alla fine muore, il figlio e la figlia piangono e capiscono il vero significato del Natale, omg, omg, abbiamo seguito i soldi, non siamo andati da lui al Natale, e poi in realtà l'uomo aveva finto di essere morto, ma in realtà era vivo, voleva riunire la famiglia, perché nulla dice Natale quanto mentire a dei propri parenti durante la cena di Natale, incenando la propria morte, che è una di quelle cose che costituisce i valori basilari, che vanno salvati quando si dice no, salviamo le tradizioni del Natale, mentire e incenare la propria morte all'ombra della stella volante, la stella cometa. What? Farlo di difendere delle tradizioni che nemmeno conosco. Un'altra notizia importante della quale si parla molto oggi è la sparatoria che è avvenuta a San Bernardino in California, vicino a Los Angeles, in un centro che si occupa di disabili, dove due persone, marito e moglie, si sono introdotti, non si sa bene le ragioni per le quali si siano introdotti e abbiano iniziato a sparare, hanno lasciato per terra 14 morti, 17 altre persone sono rimaste ferite, i due sono stati raggiunti dalla polizia, poi uccisi, e questa roba ovviamente è una sorta di notizia che si presta a ogni tipo possibile di speculazione, perché ognuno nelle cose ci vede sempre quello che ci vuole vedere, siccome il tizio è di origine, ma era nato negli Stati Uniti, era americano, ma è di origine, in Pakistan c'è chi sta giocando la carta del terrorismo islamico, chi invece non è d'accordo, il che è anche comprensibile, perché la maggior parte delle sparatorie negli Stati Uniti non avviene per motivi religiosi, sta dicendo altre cose, e ovviamente tenete presente che anche in Italia, se questa roba dovesse essere di matrice islamica, se ne parlerà di nuovo, visto maledetti musulmani fanno questo tipo di cose, ma se non dovesse essere così, buona parte di quei partiti che dice quel tipo di cose, sarebbe zitta, perché in quel caso la colpa ricadrebbe sulle leggi americane, per quanto riguarda la compravendita di armi da fuoco, che come sappiamo è un problema degli Stati Uniti, Obama ha ribadito che questo è un grande problema del paese, su 336 giorni non puoi avere 355 sparatorie, è una roba completamente fuori controllo e fuori di testa. In ultimo, la tensione tra Turchia e Russia è ancora altissima, e se non ci fossero delle vite di mezzo, se non fossero delle cose terribilmente serie, verrebbe da ridere e probabilmente ne rideremo comunque, perché siamo sciocchi. Il punto è che mentre Putin, a seguito dell'abbattimento del getto russo, continua a distendere le relazioni tra i due paesi, accusando proprio Erdogan, il presidente della Turchia, non solo di essere legato allo scambio di petrolio tra il suo paese, l'ipotetico scambio mai provato tra il suo paese e lo Stato Islamico, ma accusa proprio la sua famiglia nello specifico di essere quella che beneficia della compravendita. Il che, di nuovo, non significa né che Putin sia una bella persona, né che Erdogan sia una bella persona, perché da una parte abbiamo, ad esempio, l'Estonia, che sta qui, e che, quella che è tecnicamente l'invasione della Russia in Ucraina nel 2014, ha iniziato a spendere molto di più in armamenti, e che ha visto la creazione di gruppi di civili armati, che è sempre qualcosa di interessante, quando succede che si preparano a un'ipotetica invasione, o perlomeno a un ipotetico interessamento della Russia nei loro confronti, dato che sono un altro paese al confine con la Russia, che ha al suo interno delle minoranze di cittadini che si sentono più russi, ma sono sicuro che per una minoranza di persone, anche tutti gli estoni sono fascisti e non capiscono che Putin sta semplicemente cercando di aiutare le persone. Come anche Erdogan è buono, e evviva, la Turchia vuole entrare in Unione Europea! Peccato che in Turchia ci siano delle leggi particolari, in merito all'essere critici nei confronti del governo. Dato che tra il 2014 e l'inizio del 2015, in Turchia 104 persone, scrive la BBC, sono state, formalmente accusate, di mancare di rispetto all'autorità del governo, facendo cose tipo pubblicare dei meme su Facebook. E non sto scherzando, c'è un medico turco che ha perso il lavoro e adesso rischia sino a due anni di carcere per aver pubblicato un meme su Facebook. Cioè, lui ha pubblicato un'immagine di Erdogan accostandolo a Gollum, che è peraltro una roba che non ha nemmeno fatto lui, e che a decidere la sorte di quest'uomo sarà una commissione di cinque esperti, che io più o meno immagino così, che sono stati fatti arrivare apposta e che dovranno discutere e poi deliberare, evidentemente, in merito alla questione, Gollum è un personaggio negativo o è un personaggio positivo? Perché se Gollum è un personaggio positivo, anche Erdogan è un personaggio positivo, quindi sei libero di andare, caro amico medico che comunque ha perso il lavoro, invece se Gollum dovesse essere un personaggio cattivo, no, in quel caso no. Punizione, due anni in carcere, sbattere martello sul tavolo, è dal mondo globalizzato del 2015, è tutto. Grazie per aver guardato, Alessandro non sei soltanto il nostro alfiere per oggi, perché mi mandi questa foto da Luzbekistan, il che è folle, veramente, è una roba allucinante, ma anche perché me lo hai chiesto per cortesia, quindi sei il nostro alfiere per oggi, ricordatevi che domenica sarò a più libri più liberi, la fiera del libro che ci sarà a Roma, questa domenica, ve lo ricorderò anche domani, se fu così non ve la perdete, se voleste incontrarmi, starò la domenica, dirò delle cose, e poi starò un po' in giro per la fiera a incontrare quelli di voi che vorranno raggiungermi nella capitale, ed è tutto, ci vediamo domani con Breaking Italy.